Davanti a un cassesso di 500 specialisti cinesi ai più alti livelli, c'era solo l'Aquila a rappresentare l'Europa con lo stendardo della ginecologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. A Sceneanga, nella lontana Manciuria, a 600 km da Pechino, al Congresso Nazionale di Euroginecologia Cinese, ai rappresentanti del Presidio Aquilano è stato persino riservato il privilegio di aprire l'assemblea plenaria degli specialisti dagli occhi a mandorla della specifica branca. In un paese esterminato dal numero esponenziale di nascite e con reparti che superano la soia di 10.000 parti l'anno, i Dominus Cinesi dell'Uroginecologia hanno riservato il massimo dell'attenzione all'Alezio Magistralis del professor Gaspari Carta, in cui si parlava di una nuova tecnica sul recupero dell'utero in casi molto gravi di prolasso. Carta, direttore di ostetricia e ginecologia dell'Aquila, invitato a tenere l'Alezio Magistralis, ha tenuto l'overture dell'assemblea con un intervento durato 40 minuti, sviluppato rigorosamente in inglese, contraddistindo dalle domande dell'uditorio e dalle relative risposte del primario. L'Alezio Magistralis è stata accompagnata dalla proiezione di una doppia diapositiva, una con didascalia in inglese e l'altra nella lingua locale, mentre un interprete ha tradotto dall'inglese al cinese tutta l'esposizione di carta sull'argomento. Gli organizzatori del congresso, peraltro, si erano procurati con largo anticipo per esaminarle e tradurle al meglio le diapositive sull'intervento del responsabile del reparto aquilano, unico specialista europeo invitato ai lavori nazionali cinesi. Carta, una lunga e apprezzata esperienza professionale, dal prossimo anno assumerà la carica di presidente nazionale dell'AiUG, l'Associazione Italiana Urologia Ginecologica. Il reparto di ostetricia e ginecologia dell'Aquila, tra l'altro, offre in Abruzzo servizi di nicchia come il parto in acqua, che a distanza di oltre un anno fa registrare l'alto gradimento delle partorienti.